Gentili telespettatori, buona giornata. Bruno Vespa, che anche lui ha un programma di intrattenimento, temi sociali, temi politici, è differente dagli altri, Giletti e compagnia Cantando. Quelli della compagnia Cantando, non so se per volontà propria o direttive, ordini della rete televisiva, invitano persone le più pittoresche possibile per farle litigare. Viene fuori la notizia di quello che si presenta col braccio di silicone per farsi vaccinare, subito invitalo l'esclusiva perché dobbiamo fare ascolti. Non dobbiamo fare informazione, dobbiamo fare ascolti, che è diverso. Fare ascolti. Ascolti uguale business, economico, la rete guadagna e il conduttore guadagna. Di più. Vespa dice una cosa diversa. Lui dice, un conto è capire perché la gente ha paura e spiegarglielo. Un conto è dare spazio a teorie senza fondamento. Teorie senza fondamento vuol dire cose inventate. Cose inventate. Ne ho sentite tantissime inventate. Tipo, è stato tolto da internet un articolo che diceva, e il conduttore tramite i suoi collaboratori dice, e l'articolo è ancora in linea. Lei dice che l'hanno tolto per nascondere, e l'articolo è ancora lì. Ecco, questo vi voglio dire. Le persone che vanno in televisione con un'impalcatura di menzogne. Menzogne che hanno costruito loro direttamente, o che hanno costruito altri, che loro portano senza neanche verificarle. Verifiche che puoi fare in pochi minuti, o addirittura a volte in pochi secondi su internet, ma che spesso l'ospite non va neanche a verificare perché sennò gli cade tutto il castello. Se vuole andare a dire che hanno rimosso l'articolo per nascondere, e poi scopre che l'articolo non hanno rimosso, capite che anche le certezze fondate di queste persone, anche queste persone poi capiscono che le loro certezze sono fondate sul nulla. Ed è proprio questo che dice Bruno Vespa. Io invito le persone, ma non quelle che hanno teorie senza fondamento. Dice, un conto è capire perché la gente ha paura e spiegarglielo. Un conto è dare spazio a teorie senza fondamento. E aggiunge, non sono per dare uno spazio eccessivo ai Novax. Ne ho ospitati in studio, i quali hanno confessato di aver paura. A confronto con degli scienziati, però, è stato un disbattito abbastanza pacato. Quando in passato ho ospitato un medico, il quale si è permesso di dire alcune cose senza alcun fondamento scientifico, ho troncato la trasmissione. Non possiamo creare confusione nella gente. Dice Bruno Vespa, ospite su Radio 102.5, con Massimo Giletti, Luigi Santarelli e Stefania Lodice. Dice, un conto, dice il conduttore di Porta a Porta, è cercare di capire perché la gente ha paura e spiegarglielo. Un conto è dare spazio a teorie che non hanno un minimo di fondamento e che hanno l'unico risultato di creare confusione. Ecco, questo è quello che vi ho sempre detto. Pluralità di opinione, in questo caso, di questa malattia. La pluralità di opinione significa dare delle opinioni, delle opinioni su delle cose reali. Ma se io come conduttore devo invitare la persona che dice questo è marrone, e poi arriva una persona che dice ma che marrone, quella roba lì neanche esiste. Tu dici, scusi, questa non esiste. Ma non lo vede? Esiste solo nella tua mente baccata. Ecco, questo è il problema. Questo è il problema, la differenza tra Vespa e gli altri. Vespa invita i Novax. Ma dice, io invito il Novax, ma che è Novax per delle ragioni. Non invito quello che arriva con delle teorie che non hanno nessun fondamento. Mentre dall'altra parte, non invitano i Novax con teorie con fondamento. Invitano tutta la galassia Novax anche quelli che ti portano delle teorie senza nessun minimo fondamento. Costruite spesso su bugie come quella, cos'era la vicequestore, se non sbaglio, quella di Roma che è andata in una trasmissione televisiva a dire hanno rimosso da internet un articolo che diceva le cose giuste, il sistema lo ha rimosso per nascondere. e il conduttore dice, scusi, guardi, la redazione lo sta cercando in internet, l'ha trovato al primo colpo. Il conduttore che sbugiarda la signora che si inventa degli articoli rimossi, però sa perfettamente che la signora era in inventiva, ma la logica del programma vuole che la signora sia presente nel programma a dire che l'email è stata rimossa, in modo che il conduttore possa dire no, lei si sbaglia. Ma questa non è un approfondimento dell'informazione. Non ha il fine di far capire al telespettatore che il conduttore sbugiarda la signora, perché si insinua, si installa il dubbio che potrebbe avere ragione sia Giletti sia la signora. Perché molti possono dire ah, hai capito, hanno tolto da internet l'articolo. Anche se Giletti ha detto la mia trasmissione l'ha trovato, c'è tanta gente che crederà alla signora che dice che l'articolo è stato rimosso. Ovviamente, ovviamente, senza andare a verificare. Questo è il problema, che in Italia c'è disinformazione basata sull'audience e sul fatturato delle aziende televisive. Vespa è uno che dice se io invito una persona per dare un'opinione su fatti reali la invito. ma se mi dice e comincia a parlare di cose completamente inventate blocco la trasmissione perché quella non è informazione, si crea solo confusione nel telespettatore. Questo, ecco perché Bruno Vespa ha assolutamente ragione. Che vi possa piacere come conduttore o no, ha assolutamente ragione. Io vi inviterei a quando cominciano le solite trasmissioni alle nove di sera con la solita scenetta dove litigano e dicono tutto il contrario dell'altro, io vi inviterei a spegnere la televisione o a guardarvi un video musicale perché guardate che andranno avanti per altri mesi, tutte le sere e tutti i pomeriggi ci sarà gente che litiga per fare audience e soldi, non per farvi capire le cose, per fare i soldi. Arrivederci a tutti e grazie.